Sono Sara e lavoravo all'Apple Store di Rimini come creative fino all'11 settembre del 2013. Quel giorno i manager mi hanno chiamato in ufficio e assieme allo store leader mi è stato comunicato che in quel momento il nostro rapporto di lavoro si sarebbe concluso. La mia prima reazione è stata quella di totale mancamento dell'aria, non mi avevano neppure fatto sedere sulla sedia e subito ho chiesto una motivazione perché avevo sbagliato qualcosa, non mi ero comportata bene, con qualunque motivo. E non mi è stato dato. Poi sono stata scortata fino all'uscita, come se fosse una criminale, come se avessi commesso qualche reato. Ed è stato umiliante. L'umiliazione è più grossa della mia vita. Forse soltanto le persone che hanno perso il lavoro come me possono capire tutto l'insieme di emozioni brutte che io ho provato. Sono stati i giorni più umilianti della mia vita perché una persona privata del proprio lavoro è privata di una parte fondamentale della propria vita. Ci si sente una nullità. Solo chi ha perso il lavoro in tempi brutti come questo mi può capire. Attorno a me parenti, amici, le persone più care mi dicevano di voltare pagina, di guardare avanti. Ma come è possibile guardare avanti se non ti sono state date delle motivazioni? L'unica persona che mi hanno compreso sono state i ragazzi di ADL Cobas, di Rimini. Sono state le prime persone che mi hanno appoggiato, mi hanno detto che hai subito un'ingiustizia e mi hanno confortato. Non mi sentivo più sola. Nel momento in cui parlavo di ciò che mi era successo mi dicevano non sei sola perché in tanti altri settori, tante altre aziende, trattano i propri lavoratori come è successo a te. Grazie a loro sono arrivata fino all'avvocato Stoianova con la quale andremo al 7 di novembre in tribunale. Che cosa mi aspetto quel giorno o quello che ne verrà? La cosa più banale. Io spero che possa esserci un po' di giustizia perché come si sono comportati quelli di Apple che dicono di essere differenti e come si comportano tutte le aziende di questi tempi. Usano i lavoratori, li sfruttano per poi cacciarli in mezzo a una strada quando non servono più, quando non sono più comodi. e questo non è dignitoso, questo non è giusto. Spero che qualcosa possa succedere di buono e spero anche di poter essere un esempio per tutti i lavoratori che ogni giorno vanno al lavoro e subiscono delle ingiustizie. Non bisogna essere soli, non ci dobbiamo isolare, parliamone con qualcuno che ci ascolti per non rimanere soli, per non subire continuamente delle ingiustizie. Grazie a tutti.